Continuamente l'esperienza è questa, che i poteri sociali esistenti si formano, impongono i loro ordinamenti e rispetto ad essi i simboli si trovano in posizione di dipendenza, perché questa struttura della realtà è una struttura complessa, non riducibile a ragione, completamente studiabile per carità. La sostanza di cui è fatto il mondo è il potere, altro che il soggetto. Il potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi, diventano gruppi e impongono forme di dominio, tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitori, finché volete, ma ci sono.